Ciao ragazzi allora questa sera sono in cantina preparando l'indagine questa sera userò uno strumento che avevo preparato per le indagini per i bambini adesso faccio vedere e poi posizionato nella tattina la tavola di camera tutta la notte vediamo se riusciamo a fare gli scontri allora questa nuova videocamera che uso questa sera questo è il giochino che vincevo con il k2 e poi c'è un'attroccio con la notte che andrà a illuminare tutto anche perché tra poco spegnerò la luce ok ok scusate ok ok dovrebbe andare così poco luce ok adesso andiamo a salare il giochino ok e questa videocamera lasciamo fisso e nei miei dirigerò ora poi domande poi andrò a posizionare quell'altra videocamera vista dall'altra parte dell'altra cantina perfetto spegniamo la luce e facciamo un giro con il fracosso ok 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 come dicevo ho perso questa c'è qualcuno qua c'è un giochino per voi se volete faccio uno strumento partare k2 ok adesso vado tra parte ok riesce a farci andare k2 per favore questo è un po' da solo mi è lontano che vedo ok sono completamente buio ragazzi non ci vedo niente ok 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 ora Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.